Raccontare la tragedia di Vaia quattro anni dopo e riaprire una ferita che non si è mai più rimarginata, se gli interventi eseguiti su tutto il territorio violato dalla furia dell'acqua e del vento cominciano ad offrire l'immagine di una provincia che si è rialzata, fiera, non si può dire lo stesso per gli effetti psicologici che la tempesta ha lasciato nell'animo di chi visse quelle drammatiche giornate a cavallo fra il 26 e il 30 ottobre 2018. Come non dimenticare gli appelli via social che si tramutarono in suppliche rivolte ai bellunesi invitati a rimanere a casa nelle ore più drammatiche, il ricordo del presidente Roberto Padrin. Quello era l'unico monito che potevo fare ai miei cittadini per cercare di aiutarli e proteggerli, non avevamo altri mezzi che non quelli e quindi abbiamo utilizzato i social per cercare di dare questa comunicazione perché la situazione stava degenerando in maniera pazzesca. Un evento mai visto prima, ben più grave dell'alluvione del 66, con venti che sfiorarono i 200 chilometri orari, a terra rimasero milioni di alberi scorticati dall'alto simili ai bastoncini del gioco dello Shanghai, i danni scioccanti. Sono stati investiti circa un miliardo di euro grazie allo Stato, all'impegno della struttura commissariale della regione del Veneto, è stato fatto un grande lavoro con i soggetti attuatori, tutti si sono messi a disposizione nonostante le difficoltà nel reperire le imprese e soprattutto anche trovarsi di fronte a delle situazioni anche logistiche ambientali non facili. Si è fatto il possibile per mettere in sicurezza il territorio dopo quella tempesta che è stata un segnale inequivocabile del cambiamento climatico in atto. Oggi è il 28 di ottobre e ci sono 25 gradi a Belluno e questa non è sicuramente una cosa normale, è un'anomalia e questo purtroppo provocherà anche in futuro altri problemi che mi auguro noi ci prepareremo al meglio per affrontare. Domenica alle 21.15 Antena 3 trasmetterà Tempesta Perfetta, il documentario che raccoglie reportage di quei giorni impressi nella memoria di ognuno di noi.